Ciao, sono Karin Mensah, cantante e didatta, autrice del libro L'Arte di Cantare. Il metodo parte dalle basi più semplici per raggiungere una corretta impostazione e igiene vocale e una maggiore coscienza e controllo della propria vocalità. Se tu non ti senti sicuro della tecnica che usi, se hai la voce stanca dopo aver cantato, se hai bisogno di una guida seria e concreta o vuoi diventare anche tu un docente certificato dell'arte di cantare, iscriviti ai nostri corsi. Ti aspetto. Ciao. 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 Ciao.